Siamo già in netto ritardo rispetto alle altre squadre. Bisogna fare una squadra contro il tempo, trovare giocatori che fanno il nostro caso. È un compito veramente difficile adesso. L'estate calcistica di Trani, Sponda United Sly non conosce pace. Succede tutto in poche ore. Alle 14.30 di mercoledì 9 settembre, in diretta su Teresveva, Francesco Morgese aveva annunciato il raggiungimento di un accordo per dare seguito con una nuova proprietà all'esperienza avviata dalla famiglia Quarto in città, prima del dietrofronte dello smantellamento dell'organico di qualche settimana fa, percorso nel quale lo stesso Morgese avrebbe avuto il ruolo di direttore sportivo. Alle 18.15 dello stesso giorno, ecco il clamoroso passo indietro del gruppo di imprenditori, capeggiato da Pasquale Abruzzese, figlio di Paolo, che per diversi anni in passato è stato presidente della Forti Strani. È tutto in un comunicato di poche righe che sintetizza la fine di un'avventura mai nata, con a capo alcuni esponenti locali. La famiglia abruzzese, si legge nella nota, comunica di non aver concluso l'accordo con il presidente della United Sly, Danilo Quarto, per l'acquisizione della squadra di calcio. Nonostante gli sforzi profusi per la buona risoluzione della trattativa, è stata giudicata non più percorribile l'ipotesi del subentro in società, spiega il comunicato. Con una chiosa, la famiglia abruzzese ringrazia Quarto per la disponibilità nel voler lasciare il titolo a Trani e il direttore Morgese per l'impegno dimostrato. Lo stesso Morgese, come spiegato a Telesveva, era già al lavoro per allestire l'organico e individuare un nuovo allenatore. Piani che ora tornano in soffitta, con la partecipazione alla United Sly al prossimo campionato di eccellenza, che torna appesa un filo, con la Coppa Italia di Lettanti che incombe il 20 settembre. Alla finestra c'è il Canosa, che confida in un ripescaggio.